piegate ancora le gambe e prendete con le mani il ginocchio sinistro intrecciando le dita delle mani e mettendo le mani sul davanti del ginocchio e tenendo la gamba sinistra sempre piegata con il piede sollevato fate un po di movimenti del piede sinistro e della caviglia sinistra portando la punta del piede in su e il tallone in giù e poi la punta del piede in giù e il tallone in su fatelo alcune volte sentite se mano a mano il vostro piede la vostra caviglia possono diventare più flessuosi più elastici sentite bene com'è il movimento di questo piede di questa caviglia se avvertite una differenza rispetto al movimento che avete fatto dall'altro lato sentite l'eco che crea nella gamba poi riappoggiate un momento il piede sinistro a terra rimanete un momento prendete una pausa con entrambe le gambe piegate dopodiché riprendete il ginocchio sinistro con le mani ma mettete le mani dietro al ginocchio sempre con le dita intrecciate e allungate ripiegate qualche volta la gamba sinistra e sentite come lo fate fatelo per qualche volta e poi lasciate la gamba allungata la gamba allungata in un modo che sia sostenibile per voi che non sia troppo di sforzo però allungatela per quello che si può allungare e mantenendo l'allungata fate ancora qualche movimento del piede sinistro della punta del piede che va in giù e che va in su e sentite che cosa accade nella gamba e cercate di tenerla allungata tutto il tempo anche quando il tallone va in su e la punta del piede va in giù cercate di tenere la gamba ben allungata ripiegate piano piano la gamba sinistra non la lasciate tenete sempre le dita dietro le mani dietro e riprovate ad allungarla verso il soffitto e a ripiegarla andando e tornando qualche volta e sentite come si allunga la vostra gamba poi lasciatela andare distendete entrambe le gambe e sentite il contatto con il pavimento piegate di nuovo le gambe tutte e due organizzate bene l'appoggio delle piante dei piedi a terra e riprovate a fare qualche rotolamento del bacino verso la testa e verso i piedi avanti indietro e sentite la qualità di questo movimento e sentite come si trasmette nella schiena come si trasmette nella colonna come coinvolge la testa questo movimento fermatevi al centro prendete le ginocchia con le mani tutte e due mettendo le mani sul davanti delle ginocchia più o meno sulle rotule e senza unire però le ginocchia quindi senza intrecciare le dita delle mani e avvicinate tutte e due le ginocchia al petto e poi le allontanate dolcemente diverse volte sentite quanto potete avvicinare le ginocchia al petto senza forzare ma senza neanche limitarvi e fatelo diverse volte le avvicinate le allontanate sempre tenendole con le mani e sentite questo movimento delle vostre anche del vostro bacino della vostra schiena e sentite anche come risuona al collo alla testa poi lo lasciate andare appoggiate le piante dei piedi a terra e se lo desiderate distendete anche un momento le gambe per prendere un momento di pausa piegate di nuovo le gambe prendete entrambe le ginocchia con le mani ma mettete le mani dietro le ginocchia nello spazio di sotto partite con le ginocchia abbastanza vicine al petto e piegate e poi allontanando un pochino entrambe le ginocchia dal petto allungate entrambe le gambe verso il soffitto fate piano non forzate non vi fate male soprattutto all'inizio fate un movimento abbastanza limitato e poi ma magari man mano che lo fate potrete fare un movimento anche un pochino più grande ma se sentite che è il caso di aumentare l'ampiezza del movimento cercate di aumentarla gradualmente in modo che i muscoli piano piano si allunghino con facilità e continuate ad allungare tutte e due le gambe verso il soffitto e poi piano piano le ripiegate tutte e due mentre le piegate le spingete un pochino verso il petto mentre le allungate le allontanate un pochino dal petto lasciate andare e distendete le gambe ora piegatele di nuovo prendete le ginocchia con le mani mettendo le mani davanti alle ginocchia tenendo spazio tra le ginocchia e fate il movimento del piede a martello e del piede da ballerina con tutte e due i piedi con tutte e due le caviglie fatelo diverse volte se volete provate a farlo qualche volta lentamente qualche volta più velocemente provate a giocare un pochino con questo movimento dei vostri piedi delle vostre caviglie appoggiate un momento le piante dei piedi a terra senza allungare le gambe e poi prendete di nuovo le ginocchia con le mani mettendo le mani dietro nello spazio dietro il ginocchio partite con le gambe piegate allungatele verso il soffitto e rivegatele ancora qualche volta tre quattro volte sentite come lo fate e poi lasciatele allungate per quello che vi è possibile e tenendole allungate fate il movimento del piede a martello e del piede da ballerina quindi della flesso estensione di tutte e due le caviglie se potete muovete anche le dita di tutte e due i piedi fate piano perché questo movimento si sentirà molto nelle gambe e notate che cosa sentite nelle gambe quando fate i piedi a martello quando le punte dei piedi vanno in giù e che cosa sentite nelle gambe quando fate i piedi da ballerina e cercate di tenere sempre le gambe abbastanza allungate poi fermate questo movimento ma continuate a tenere le gambe con le mani ripiegate piano piano le gambe senza lasciarle e riprovate a ripiegarle ancora qualche volta e sentite come lo fate quanto potete allungare adesso le vostre gambe verso il soffitto poi lasciate andare tutto distendete le gambe distendete le braccia e sentite un momento il contatto con il pavimento ora piegate le gambe di nuovo e con le gambe piegate riprovate a fare qualche rotolamento del bacino verso la testa e verso i piedi e sentite com'è adesso questo movimento e come si trasmette alla testa come quanto si trasmette alla testa poi fermatevi un attimo col bacino al centro tenete ancora le gambe piegate e tornate a fare qualche movimento del mento che si avvicina alla gola e poi che si allontana dalla gola e quindi della testa che scivola sul cuscino e sentite come fate questo movimento qui lasciatelo andare distendetele di nuovo le gambe tornate a osservare la sensazione che avete nel modo di essere distesi nel modo di essere appoggiati sul pavimento i punti di contatto il contatto della schiena notate quanto spazio sentite sotto la parte bassa della schiena in particolare sui due lati notate com'è la sensazione di lunghezza che avete sia in generale sia nei due lati notate dove è appoggiata la testa rispetto a tutte le altre parti di voi e in particolare rispetto ai due lati di voi e fate anche qualche piccolo rotolamento della testa da un lato e dall'altro verso destra e verso sinistra e sentite la qualità di questo movimento e poi lasciate andare e pian pianino con molta calma vi organizzate usando tutti gli accorgimenti che conoscete per mettervi seduti e poi quando correte per arrivare in piedi grazie grazie grazie